Il comune di Castellabate compie un passo decisivo e fondamentale per la lotta al randaggismo. Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha firmato l'ordinanza numero 37 del 3 agosto 2021 a tutela degli animali, accogliendo l'istanza della Lega Nazionale per la Difesa del Cane che opererà in collaborazione con l'ASL Veterinaria Salerno di Agropoli. Il comune autorizza a prelevare i cani randagi, verificandone lo stato di salute, microcippare, cioè identificare e iscrivere all'anagrafa e canina come cane del comune e successivamente a reimmetterli sul territorio. Per limitare il fenomeno del randaggismo si provvederà, oltre al censimento della popolazione canina, randagia e padronale, anche ad una adeguata campagna di sterilizzazione. Grazie al lavoro del Corpo di Polizia Municipale e al supporto dei volontari si intende, insomma, intensificare azioni mirate ad aiutare gli amici a quattro zampe senza padrone. Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha dichiarato in merito all'ordinanza la strada giusta per combattere una volta per tutte la piaga del randaggismo è quella di contenere le nascite ma al tempo stesso garantire il benessere degli animali. attraverso questo piccolo virtuoso, inoltre, si darà respiro alle casse del comune con la drastica riduzione delle spese di mantenimento presso i canili.